Leonardo Silva Revisore Bene, che emozioni vi sembra che possa provare questo personaggio che è diventato famoso era la copertina di The Court of the Crimson King un album, un LP che ebbe grande successo alla fine degli anni Sessanta. Che emozioni esprime questa immagine? Sicuramente due, una è il terrore e l'altra senza dubbio si dice la rabbia, collera, ira. Questo è il termine sicuramente più corretto in italiano. Arriviamo al rapporto tra collera, ira, rabbia parliamo con il senso comune quando noi ci sentiamo particolarmente terrorizzati e arrabbiati quando vediamo che il cosmo che è quell'orizzonte di ordine, di prevedibilità all'interno del quale possiamo essere creativi possiamo cambiare l'ordine delle cose e prevedere quello che accade viene corrotto dal caos cioè, vale a dire, dall'imprevedibile e quanto più il caos è importante e destrutturante tanto più ci sentiamo oltre che terrorizzati chiaramente anche arrabbiati che cosa prova questo cane? Evidentemente molto arrabbiato ma anche molto spaventato che cosa sta accadendo? Ebbene, dovete sapere che nei primi sei mesi di quest'anno sono esplose le ricerche intorno al terrore ma anche intorno alla collera, anger in particolare questo è il termine che bisogna utilizzare con i motori di ricerca per rintracciare gli esiti di studi e di analisi che sono state fatte in diverse popolazioni in tutto il mondo sostanzialmente ciò che si sta rilevando è che uno degli esiti forse tra i più importanti del Covid sì, sicuramente è la paura sicuramente c'è molto dolore, molta depressione dovuta anche tra l'altro al lutto ma dobbiamo sapere che la rabbia è uno dei vissuti è una delle emozioni di base più sentite proprio per coloro che soffrono per le perdite, per il lutto ebbene ci si è resi conto che uno dei problemi più importanti che dobbiamo gestire dopo il Covid speriamo che sia questa la fase che stiamo vivendo è proprio la rabbia, anger, l'ira e che cosa sta vedendo, dicevamo, questo cane per provare tanta rabbia e tanta ira sta vedendo un cigno nero no, non sto parlando ovviamente di un animale non sto parlando di quello splendido animale eccezionale che colorato di nero ci sorprende quando lo vediamo magari insieme a dei compagni candidi ebbene la teoria di Nassim Taleb la teoria del cigno nero indica appunto quell'evento caotico vale a dire casuale, imprevedibile che viene dal nulla direbbe il mio maestro per confutare questa teoria appunto Emanuele Severino e che dunque scompagina interamente i piani quello scompaginamento procura terrore e rabbia appunto e quando si ripete all'infinito cioè vale a dire quando il cosmo è totalmente corrotto dal caos noi viviamo un senso di impotenza gli psicologi parlano di impotenza appresa e per non vivere questo vissuto cerchiamo il più possibile, dice Taleb di spiegare il che cosa ha causato quell'evento in modo tale da poterlo prevenire questa previsione ci aiuta dunque a sentirci più potenti più capaci di affrontare il futuro e quindi di tornare ad abitare un cosmo piuttosto che il caos chiaramente la paura e l'imprevedibilità rendono la vita impossibile per l'uomo perché abbiamo perso la maggior parte degli istinti e dobbiamo necessariamente vivere nella nostra società prevedibile anche se a volte l'essere troppo prevedibili ci annoia il problema è il più breve qua stiamo per citare un altro evento Ted il problema è che per quanto noi possiamo dire che il covid o si è stato un cigno nero assolutamente imprevedibile che cosa accade? proprio per non vivere in un profondo senso di impotenza e anzi capire che cos'è il covid abbiamo cominciato a rivangare nel passato e ci siamo resi conto che proprio all'interno del Ted era il 2015 e a un certo punto era venuto fuori molto chiaramente da Bill Gates che erano ormai state fatte molte previsioni dagli epidemiologi i quali ci allertavano e dicevano attenzione siamo in ritardo deve arrivare molto presto una pandemia quindi preparate i piani antipandemici chiaramente siamo tutti molto risentiti molto arrabbiati perché quando arriva una notizia in fausta di questo genere non si sa quando, non si sa come, non si sa che cosa sarà però vi possiamo dire con certezza che avverrà bisognerebbe attivare dei processi di riduzione del danno cioè ci sarà un caso arriverà qualcosa che assomiglia ad un cigno nero ma possiamo limitare i danni e questo è quello che non è successo non dico nel quarto mondo, non dico nel terzo mondo non dico soltanto in Italia ma addirittura in tutto l'Occidente abbiamo addirittura avuto dei capi di stato che hanno sfidato il cigno nero dicendo sono tutte bufale e così è successo quello che è successo bene, la rabbia però ha un grande limite non risolve i problemi e non aiuta a prevedere voi sapete che quando si è molto arrabbiati sia un po' come questo personaggio che vi descrivevo è un po' dell'LP del King Crimson ed è appunto incapace di farci ragionare vediamo che cosa sanno fare gli psicologi rispetto all'incapacità di gestire le emozioni specialmente quando sono quelle primarie voglio ricordarvi un evento di pochi mesi fa grazie a Dio abbiamo scoperto questi vaccini siamo stati molto efficaci e molto bravi se non che in Toscana per la stanchezza una infermiera ha inoculato ben quattro dosi in un colpo solo a questa giovane tirocinante che si è fidata questi giovani che si fidano di noi adulti e che dovremmo guidarli tutti ci saremmo aspettati intanto una esposizione mediatica della giovane psicologa e poi anche una manifestazione del suo risentimento magari addirittura la volontà di rivalersi dal punto di vista legale contro l'infermiere invece non lo ha fatto ha taciuto, è stata zitta e ha perdonato che cosa sa la psicologa? sa che la rabbia non risolve assolutamente niente non solo non risolve ma aggiunge problemi ai problemi che già abbiamo quindi noi psicologi la prima cosa che diciamo è attenzione, ok, la rabbia va vissuta ma innanzitutto va riconosciuta e poi si può gestire la si può elaborare e questo da grande potere specialmente quando si deve fare riduzione del danno perché qualcosa di inatteso ha scompaginato le nostre previsioni la nostra vita quotidiana già così difficile bisogna saper lavorare vedete, la seconda immagine è quella di un iceberg bisogna saper lavorare a livello inconscio e non solo ma noi psicologi sappiamo che non basta sapere che la rabbia non risolve non basta sapere che ci aspettiamo che arrivi il cigno nero perché inevitabilmente rischiamo di fare come abbiamo già fatto qualcuno dice abbiamo l'esperienza non faremo gli stessi errori non è vero faremo gli stessi errori se non diventiamo consapevoli del meccanismo inconscio che ci ha portato ad essere così inefficaci dal punto di vista psicologico molto efficaci dal punto di vista medico molto inefficaci come popolazione anche occidentale dal punto di vista psicologico perché siamo stati così incapaci di gestire il terrore di gestire la notizia la notizia peggiore che potessimo ricevere attenzione c'è un virus altamente infettivo che sta circolando dobbiamo fare subito qualcosa immediatamente per fermarlo e non l'abbiamo fatto abbiamo fatto passare i fatidici 2-3 mesi iniziali che hanno trasformato il contagio in epidemia la Terror Management Theory spiega molto bene questo fenomeno tutte le volte che ci arriva una notizia che ci dice attento sei immortale sei in pericolo noi inevitabilmente buttiamo nell'inconscio questa consapevolezza cioè la rimuoviamo non la teniamo presente sfidiamo la sorta e non solo la sfidiamo ma addirittura viviamo come se il pericolo non ci fosse e questo pensate è drammatico da sapere è assolutamente normale e non c'è una colpa sostanzialmente non c'è una colpa perché è una reazione primaria che abbiamo e che, attenzione, ignoriamo non sappiamo di essere vittime di questa strategia che adottiamo quotidianamente che ci fa sentire sempre salvi sempre disponibili alla vita e sempre in sicurezza ebbene la paura della morte ci fa censurare perché ci paralizza tutti i messaggi che ci allertano rispetto al pericolo questo lo dimostra la terror management theory ormai con centinaia di dimostrazioni empiriche che cosa promuovo dunque promuovo un percorso dei percorsi di death education per tutti noi di comunità per dire signori cominciamo a ragionare su questi meccanismi inconsci cominciamo a riconoscerli perché poi sono inconsce le reazioni cioè non le controlliamo diventiamo noi stessi cigni neri per noi stessi questa immagine che vediamo è di Lee Wang Yang che come sapete è il primo medico oftalmologo che dichiarò attenzione è arrivato il cigno nero dobbiamo fare qualcosa e farlo tutti insieme la prima cosa che hanno fatto e poi hanno seguito questo esempio molti politici anche occidentali è stata quella di negare che questa fosse una notizia da tenere in considerazione è appena passato un anno dalla sua morte perché in maniera estremamente eroica quando è stato riabilitato dopo essere stato rimosso dal suo lavoro per aver dato questa notizia dopo essere stato riabilitato non è stato capace neanche lui che sapeva di salvarsi dal Covid quindi è molto importante che noi come cittadini di comunità che i nostri figli che i nostri nipoti che i nostri amici che i nostri politici ma i giornalisti comincino a ragionare su queste dinamiche inconsce assolutamente incontrollabili senza colpa e che riusciamo anche a considerare che se ci arrabbiamo per le nostre reazioni inconsce sicuramente non possiamo risolvere il problema essere fatalisti o essere emotivi non aiuta a gestire gli eventi del caos che distruggono il nostro cosmo che vuol dire il disordine l'imprevisto che distrugge i nostri ordini e le nostre capacità di ragionare essere fatalisti e dire no ce la faremo andrà tutto bene beh tutto sommato può aiutare a vivere con un po' meno di ansia qualche ora ma ci procurerà inevitabilmente a un certo punto dei problemi che non potremo e non sapremo gestire ecco dunque che dobbiamo recuperare una cosa che anticamente si chiamava memento mori ricordati che sei fragile la tua vita ha un numero limitato di giorni devi sapere che lo vuoi ignorare e questo ti fa commettere errori e ironia della sorte ti fa morire prima grazie